Il Paradiso delle Signore 8, spoiler cast, Marcello confermato, in dubbio gloria. Il Paradiso delle Signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16.05 sulla rete Ammiraglia Rai nonché in streaming su Rai Play. Le anticipazioni sul cast dell'ottava stagione della Fiction Daily di Stampo Nostrano. Nata da un'idea di Gianna Andrea Pecorelli, raccontano che saranno confermati Marcello Barbieri, Pietro Masotti, e il commendatore Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi. La contessa dell'idea di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina, la quale uscirà di scena a termine della stagione in essere. Tornerà in grande stile nell'ottavo capitolo della S.O.P. Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, dopo aver intrapreso una carriera professionale in un'azienda automobilistica. Tornerà nel finale della settima stagione e lo vedremo anche nel prossimo capitolo. Sorte analoga anche per Agnese Amato, Antonella Attili, che tornerà a Milano alla fine della stagione in essere e sarà presente anche nella prossima. Restano in dubbio, infine, le presenze di Gloria Moro, Lara Kumar, Ezio Colombo, Massimo Poggio, e della loro figlia Stefania, Gras Ambrose. Con la famiglia che sarà alle prese da una parte con l'azienda di Denim e dall'altra parte con delle paturni amorose. La rivalità affaristica, e forse anche amorosa, tra la contessa Adelaide e Marcello da un lato e il banchiere Umberto dall'altro i telespettatori potranno gustarsela anche nell'ottava stagione del Paradiso delle Signore Otto. I tre attori Masotti, Farnesi e Gravina, di fatti, sono stati confermati anche per il prossimo capitolo della Sob. L'attrice Capitolina, a differenza degli altri due, uscirà di scena alla fine della settima stagione per poi tornare in grande stile nell'ottavo capitolo dello sceneggiato di Rai 1. Agnese Amato farà ritorno nel capoluogo Lombardo al termine della stagione in essere. Dopo aver sostenuto praticamente e moralmente la figlia Tina, Neva Leoni, con la sua gravidanza complicata. E i fan potranno godersi il personaggio dell'esperta Sarta anche nel prossimo capitolo. Alessandro Tersigni, dopo l'uscita di scena per le riprese della Fiction Quarry, tornerà anch'esso nel finale del Paradiso delle Signore Sette e sarà presente anche nella stagione numero 8. La crisi sentimentale tra Marco, Moise Curia, e Stefania da un lato e il progetto professionale di Ezio e Gloria dall'altro potrebbero essere due tra le motivazioni regina che allontanerebbero. Almeno per parte della prossima stagione della Sob, gli attori Poggio, Comare Ambrose dal set del Paradiso delle Signore 8. Malgrado non vi siano spoiler ufficiali sulla loro presenza o meno la prossima stagione. È possibile avanzare le ipotesi se ho che Gloria abbandoni il suo ruolo di capo commesse dell'atelier per trasferirsi negli Stati Uniti a dar manforte alla figlia. Ma anche che Ezio decida di spostare l'azienda di Denimoltroceano. Qualora queste due tesi dovessero realizzarsi nel Paradiso delle Signore 8. La famiglia Colombo si riconsoliderebbe in America e, di conseguenza, la presenza dei tre attori ad essa legati verrebbe meno. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu ma-mbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber sa fiu stapan pe ce fac si ce spun. Stii, nimic nu mai e la fel, copilaria s-a maturizat sever. S-a lovit pana acum de fel, de fel, de oameni, de pareri, anti pur de caracter. Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt multi, dar... Grazie a tutti.